salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi come ogni settimana parleremo del nostro amato topolino in questo caso del numero 3497 ragazzi meno tre numeri al 3500 con questa bellissima cover che ritrae la storia d'apertura un grande ritorno ragazzi ovvero il ritorno della spada di ghiaccio ma ovviamente parleremo meglio di tutto questo dopo la sigla eccoci qui dunque con questa bellissima copertina ritraente i nostri protagonisti della saga della spada di ghiaccio disegnata da andrea freccero colorata da andrea cagol purtroppo rovinata dal classico strillo di disney plus disney plus che purtroppo deve esserci sempre presente da novembre in poi non capisco come mai o meglio lo capisco per incentivare la gente a abbonarsi specialmente in previsione delle festività natalizie però alla fine va a rovinare un po' questa copertina scusate la voce ma ho preso un bel po' di freddo oggi e mi sa tanto che mi sto per ammalare comunque proseguiamo con questo bellissimo numero di topolino 3497 quindi meno tre numeri al 3500 vediamo questa anticipazione sul destino di paperone se una sola lenticchia di babilonia dovesse germogliare quando crede aver perso tutto non tutto è perduto storia in uscita il 14 dicembre su topolino ad opera di fabio celoni non solo ai disegni ma anche ai testi per la prima volta ragazzi mentre il chiara tira a topolinea di silvia ziche vediamo pippo nelle vesti del cugino di alf che dice non mi sento tranquillo sei sicuro di essere vero e di non essere solo il frutto della mia fantasia perché dovete sapere che uno dei poteri di pippo nella saga della spada di ghiaccio quello che appunto non crede a quello che vede siccome sono illusioni quelle che davano sconviggere i nostri eroi non credendoci praticamente riusciva a spezzare l'incantesimo quindi in questo caso lui ha dei dubbi la sua cavalcatura dice sei proprio sicuro di volerlo sapere proprio adesso non preferisci chiedermelo più tardi quando cercheremo inutilmente posto in un parcheggio del centro particolare divertente pubblicità della nintendo e poi abbiamo il l'editoriale di del direttore alex bertani che ci appunto dice finalmente che insomma con questo numero dopo lino molto orgoglioso di dirci appunto che lui fino al 2018 da quando è entrato a lavorare la redazione generazione la direzione del topolino ha preso vari appunti e in uno di questi appunti appunto lui scrisse dicembre 2022 quarantesimo della spada di ghiaccio quindi insomma già aveva tutto in mente poi ci dice anche che grazie a marconucci insomma questo sogno è diventato realtà ma anche i disegni di christian canfai tra un paio di settimane poi ci sarà l'anniversario di zio paperone ci anticipa appunto la storia di fabio geroni quindi si prosegue con lo sketch della cover davvero molto bello di freccero e iniziamo con topolino e la leggenda della spada di ghiaccio soggetto a sceneggiatura di marconucci disegni di christian canfailla e colori di mav illustration art team che dovrebbe essere lo stesso team che ha ricolorato la vecchia trilogia della spada di ghiaccio in uscita attualmente sui volumoni premium di panini comics e qui vediamo l'inizio di questa storia appunto dove ci viene riassunto quello che hanno vissuto i nostri eroi nelle vecchie trilogie sia nella prima storica trilogia della spada di ghiaccio sia nel ritorno del principe delle nebbie e anche nell'ultima trilogia ovvero la bella addormentata del cosmo insomma quindi ci anticipa e ci fa rievocare alla mente tutti i ricordi o meglio buona parte insomma i ricordi necessari per poter introdurci a questa nuova storia i disegni sono veramente bellissimi con i colori anche spettacolari e vediamo l'esordio del nuovo villain della saga ovvero atro un potente e malvagio stregone promuovo questa scelta finalmente nuovi personaggi e non il ritorno del principe delle nebbie in stile palpatine di star wars che insomma avrebbe stancato quindi questo nuovo nemico è davvero molto interessante che è a capo degli scuri un esercito appunto di bruti in armatura nera che appunto sono al servizio di questo stregone e poi questo stregone dopo essere diventato re con un sortilegio dell'eterno obbligo cancellò dal ricordo di tutti le grandi imprese del passato di cui solo lui e il suo specchio scuro custodiscono memoria vediamo che ci sono noi due e anche lo specchio che ripete sono i due sire quindi c'è questo menestrello che non si sa come quindi si ricorda del cugino di Alfa ovvero Pippo e di Topolino e lo stregone Ior appunto dopo aver narrato le gesta a questi villici questi paesani qui di questo villaggio viene catturato appunto dagli scuri e poi vediamo che Igor questo ragazzino inizia ad avere appunto dei dubbi e vuole andare a esplorare questo vecchio rudere che appunto la leggenda dice che fosse appartenuto al mago Ior quindi contro il parere del nonno lui decide di andare a esplorare questo maniere qui possiamo vedere che la gabbia è rimasta stile classico comunque veniva utilizzato anche da Massimo De Vita più negli anni 80 lo stile di Topolino era quello e basta invece possiamo vedere delle storie nuove tipo foglie rosse che utilizzano più una gabbia quasi libera e poi vediamo appunto Igor che entra in contatto con questo strano artefatto e poi torniamo nella nostra dimensione dove vediamo Pippo alle prese con dei numeri di magia perché farà uno spettacolo appunto di magia al cenone presumo di Natale con appunto Topolino, Menni, Orazio e tutti quanti vediamo che fa anche uscire dal suo cappello un pettirosso Topolino dice ma non era più adatta a una colomba però nel cappello non ci entra dice Pippo giustamente e quindi vediamo che poi c'è un lampo e compare il buon Igor nel loro cortile nel cortile di Topolino presumo che sia una casa di Topolino e appunto Topolino si accorge che c'è il vettore dimensionale ha sentito anche nominare il cugino di Alf e quindi una volta rifocillato il ragazzo egli spiega a Pippo e Topolino che appunto le cose non si sono messe molto bene nel regno dell'Argar e quindi chiede, supplica di ritornare per dare una mano e Pippo ovviamente non se lo fa ripetere due volte Topolino in qualche doppio però alla fine decide di agire anche lui in questo caso sono a casa di Pippo perché appunto Pippo va in soffitta e recupera gli abiti originali che hanno utilizzato nelle vecchie storie col vettore dimensionale entrano in azione e ritornano appunto nelle mitiche terre dell'Argar poi però vediamo che la storia finisce con un primo piano bellissimo di questo corvo che altri non è che è l'assistente, il famiglio come possiamo chiamarlo dello stregone eccolo qua dello stregone Atro eccolo qua quindi vediamo appunto che neanche sono arrivati nelle terre dell'Argar e già si sono fatti sgamare i nostri quindi un bell'incipit una bella introduzione e non vedo l'ora di saperne di più storia davvero molto bella mi è piaciuta molto e la promuovo poi abbiamo un articolo di Francesca Agrati che appunto parla dei volumi regular e deluxe della spada di ghiaccio che sono appunto già in vendita e iniziamo poi con la seconda storia dell'albo ovvero Fridonia's World Cup 2022 scherzetto con fuga in B bemolle in B bemolle scusate storia di Marco Nocci disegni di Stefano Intini colore di Emanuele Virzi con le chine oltre di Stefano Intini anche di Roberta Zanotto vediamo sempre un un flashback di qua in questo caso che voleva partecipare appunto alle audizioni per far parte dello staff di questo mitico pianista che poi vedremo nel presente essere anche l'allenatore di questa squadra che si chiama il Proemia quindi qua decide di aiutare la squadra dicendo appunto che siccome questo coach utilizza le tecniche musicali anche per far giocare i suoi giocatori e finora non ha mai perso decide di far istruire i ragazzi appunto alla cultura musicale per poterli fronteggiare non vi dico come va a finire la storia per non spoilerarvi ragazzi ma davvero molto ma molto pregna di di Pathos anche questa mi è piaciuta davvero molto Marco Nocci insomma non si smentisce mai anche i disegni di Intini sono sono belli sono belli non apprezzo di solito Intini però non lo so quest'altro mi sono piaciuti forse il suo tratto è un po' meno marcato non lo so proseguiamo poi con vari articoli in questo caso sul canottaggio di Fabio Licari Italia 58 anni nello spazio un articolo appunto su sull'astronomia il Natale indimenticabile di Francesca Grati cioè il Natale sui parchi Disney nei parchi Disney e poi abbiamo gli allegri mestieri di Paperino a telefonia immobile soggetto a sceneggiatura di Dito Faraci e disegni di Enrico Faccini con i colori ve lo dico subito di Martina Andonova o Andonova mi perdonerà la pronuncia dove vediamo Paperino che fa prima il commesso presso una rivenditoria di telefoni della PDP anzi della PDPhone sia di telefoni che anche operatore telefonico dove appunto a questo cliente dice annuncia tutte le varie offerte che fa la PDPhone ovvero non è proprio mi è piaciuta tantissimo parlatemi dell'offerta più 10 di cosa si tratta? facile tutte le telefonate che volete al solito costo più 10 dollari conviene e lui dice ma che? a mio zio naturalmente mi ha fatto morire davvero poi appunto Zio Paperone arriva di sopra assalto al punto vendita e appunto decide di spostare Paperino in un call center dove appunto farà sempre lo stesso lavoro però appunto come operatore di call center e non vi voglio spoilerare nemmeno questa storia ma ha un risvolto finalmente positivo per Paperino davvero divertente storia breve ma bella poi cronache feline mi ha un cronache feline se i gatti potessero parlare soggetto a sceneggiature e disegni di Enrico Faccini con i colori di Valentina Mauri dove vediamo questo simpatico siparietto qui con questi gatti che parlano dei loro padroni bipedi che però non capiscono appunto questi gatti cosa si dicono gli esseri umani vediamo qui questi caratteri strani e appunto tutti quanti si chiedono che cosa ci diranno mai mentre malachia o malachia come volete chiamarlo lui dice che riesce a capire quello che appunto Paperino vuole dirgli in base al tono della voce però anche qualche parola l'ha imparata benissimo ovvero croccantini pappa cuccia pallina e poi immagina se come potesse essere il mondo con appunto gli animali che potrebbero parlare se potessero parlare con i loro padroni in questo caso vediamo malachia in giacca e papione e cappello che va a casa di Paperino diceva potremmo comunicare intenderci alla perfezione mentre Paperino risponde con qua 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 insomma mi ha fatto sbellicare questa storia poi vediamo anche zio Paperone con un qua 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 addirittura qui e qua con pio 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 Paperone che non si può sentire e quindi diceva vabbè non li capiremo mai fino in fondo meglio rimanere tutto con me tanto basta capire le parole veramente importanti questa storia ve l'ho detta tutto praticamente però era davvero simpatica qui abbiamo un altro articolo su dei premi fotografici riguardanti il mondo della natura classici giochi e poi abbiamo l'ultima storia dell'albo ovvero Amelia è l'insolito deposito testi di Marco Meloni e disegni di Mattia Sorroz con i colori me lo dico subito di Valentina no scusate di Putra Shabin Bin Amshalil questa storia pure la classica storia di Amelia che va all'assalto del deposito però questa volta utilizza una tecnica particolare ovvero cattura Archimede e fa andare al posto di Archimede a controllare i sistemi antistrega di Zio Paperone un suo factotum che quando entrerà nel deposito verserà appunto sulla strumentazione una pozione magica che trasformerà il deposito in questa versione qui questa non ve la voglio spoilerare vabbè finirà nel classico dei modi sicuramente non c'è bisogno di che sia uno spoiler però il contesto è scritto bene e comunque è abbastanza originale anche se ormai dopo quasi 3500 numeri sappiamo com'è il modus operandi della storia di Amelia con Zio Paperone poi abbiamo un altro articolo sul gadget del momento ovvero il Calisota Football Cup e poi abbiamo l'angolo dei lettori dove possiamo vedere il nipote di Giorgio Cavazzano ragazzi che ha vinto un diploma di merito a 5 anni ragazzi di disegno spettacolare spettacolare si preannuncia insomma un grande nuovo disegnatore di Topolino cosa c'è in edicola questa settimana ovvero Zio Paperone e la grande caccia al tesoro che veramente già c'era la settimana scorsa però ormai essendo diventato 15 in anni appunto rimarrà per un po' in edicola il nuovo numero di Paperinic che mi arriverà con abbonamento noi qui qua qua che salterò e Paperino che salterò mentre l'anticipazione del prossimo numero 3498 ragazzi avrà come storie la seconda parte di Topolino una leggenda della spada della spada di ghiaccio la compagnia della spada il penultimo episodio di Fridonia's World Cup 2022 l'anello debole dei Coconuts Boys gli allegri mestieri di Paperino di nuovo con consegne fumanti Orazio e il poema manutentivo di Rudy Salvagnini interessante di Valeria Velde i disegni il ritorno di nuovo di Time Machine Miss Adventures Missione Torta di Mele i disegni di Lorenzo Pastrovicchio storia di Silvia Martinoli e poi la solita strip un tipo in gamba fuori budget vediamo appunto la strip di questa settimana di Tito Faraci ai testi e Emanuele Verzi ai disegni noi vediamo un gamba di legno che prende una strada del tutto sbagliata per via della dieta che gli sta facendo fare Trudy quindi è andato a naso è andato quasi vicino alla pasticceria ragazzi questo era il numero 3497 posso dirvi che gli do un bel 7 e mezzo come voto iniziamo a dare sempre i voti al topolino e vi voglio anche stilare la mia classifica sulle storie perché da oggi in poi penso di non pubblicare più i video top e flop mensili perché alla fine erano solo ridondanti semplicemente quando vi porterò il video sul topolino vi dirò in ordine di preferenza le mie storie come meno male fanno quasi tutti alla fine è inutile creare un video apposito poi ovviamente a fine anno o appunto inizio anno nuovo farò la mia il mio video classifica sulle storie più belle che mi sono piaciute durante l'anno trascorso quindi in questo caso ragazzi sono uno due tre quattro cinque storie la strip non la considero direi che metto al quinto posto miau cronaca feline perché comunque non perché sia brutta ma perché è la storia diciamo ci sono altri che mi sono piaciute di più mi sono piaciuta anch'essa quindi comunque mi sono piaciute tutte le storie di questo topolino al quarto posto metterei amelia e l'insolito deposito terzo posto gli allegri mestieri di paperino telefonia immobile secondo posto metterei topolino e la leggenda della spada di ghiaccio appunto come primo capitolo e primo posto ragazzi metto proprio Fridonia sport cup 2022 scherzetto con fuga in mi bemolle che mi è piaciuta davvero davvero tanto fatemi sapere la vostra fatemi sapere qual è la storia che vi è piaciuta di più di questo numero io come sempre sarò lì a rispondervi con questo vi saluto e vi mando un abbraccione ci vediamo alla prossima ciao